ogni volta che il mio senso comune cerca di afferrarla per definirla la libertà vola via come una farfalla è nella sua natura dopo tutto allora il mio senso comune per sorprenderla si serve astutamente di un discorso a pera dove effettivamente di pere si parla della pera williams in questo caso quella della grappa questa pera ha poco a che fare con le altre pere che pendono dal ramo e maturano a stretto contatto con la luce e l'aria perché si sviluppa in condizioni diverse e del tutto artificiali appena spunta sull'albero il ramo sul quale nata viene infilato nel collo di una bottiglia e lì dentro quella bottiglia la pera diventa grande e matura per finire poi sotto spirito con l'etichetta della grappa dello stesso nome aria luce e calore le arrivano indirettamente e ogni rapporto col mondo esterno avviene attraverso la capsula trasparente del vetro che la racchiude più la pera maturando si sviluppa più diventa impensabile tirarla fuori di lì senza rompere il vetro se è difficile infatti per un cammello passare attraverso la cruna di un ago più difficile è per una pera di questo tipo passare attraverso il collo della bottiglia in cui è cresciuta e che la contiene eppure gli ingenui che ignorano lo stratagemma con cui è stata imbottigliata uno stratagemma antico quanto il mondo ancora si meravigliano ad alta voce e si chiedono come mai sia accaduta una cosa così innaturale una cosa così inspiegabile e paradossale si domandano come ha fatto la pera ad entrare nella bottiglia il caso della pera che viene fuori da questo piccolo apologo è naturalmente un caso disperato che non si può risolvere senza rompere la bottiglia perché riguarda chi è consegnato sin dalla nascita il proprio destino non ne ha la consapevolezza e nemmeno alla capacità intellettuale di ribellarvisi in questo caso solo una rivoluzione potrà rompere la bottiglia solo un moto collettivo proveniente dall'esterno potrà risvegliare la coscienza prigioniera ma mettiamo che dentro la bottiglia ci sia una mosca che certo è più irrequieta di una pera e meno contenta del suo stato la filosofia a questo deve servire ad aiutare la mosca ad uscire dalla bottiglia scrive ludwig wittgenstein a me sembra che una mosca per uscire dalla bottiglia debba sapere come è fatta la bottiglia solo così potrà imboccare il collo della bottiglia e volarsene via libera nell'aria ma sapere come è fatta la bottiglia quando uno ci sta dentro è una scelta molto complessa e richiede innanzitutto la consapevolezza di essere prigionieri all'interno di una bottiglia cosa che non tutti riconoscono e poi richiede immaginazione molta immaginazione perché non è facile stando all'interno concepire la forma della bottiglia che ci contiene forse è la del vetro che a volte come ho detto ci inganna e ci dà l'illusione di star fuori perciò dobbiamo sottrarci a questa illusione non solo ma anche a tutti gli altri inganni e miraggi cui siamo un sapevole o no sottoposti insomma immaginare qual è la forma della bottiglia in cui siamo imbottigliati è altrettanto difficile che indovinare la forma di un sottomarino ammesso che non l'avessimo mai visto standoci dentro chi si sta dentro quando il sottomarino naviga sott'acqua vede solo un labirinto di tubi contorti apparecchiature strumenti di navigazione un groviglio di manopole leve valvole pistoni comandi una somma di particolari così diversi confusi e frantumati dai quali solo con una forte capacità di astrazione è possibile risalire alla forma del sottomarino spero che la metafora sia chiara nonostante sia passato da una pera a una mosca e dall'interno di una bottiglia all'interno di un sottomarino ma uno scrittore usa le metafore come tarzan usa le liane e vola dall'una all'altra con la stessa disinvoltura volevo dire che la condizione e il condizionamento di chi sta all'interno di una situazione di non libertà è molto difficile da districare e non tutti ci riescono ma quali sono i condizionamenti che di solito ci tengono imbottigliati in una situazione di non libertà il primo di tutti la prima bottiglia è il luogo in cui siamo nati e la mentalità che lo contraddistingue la cultura delle piccole identità locali è quella che produce la mentalità la mentalità poi si fissa in un destino individuale e collettivo la mentalità qualsiasi mentalità ha un concetto del bene e del male che di solito non corrisponde alla morale comunemente accettata e spesso è nel senso peggiore al di là del bene e del male e così sono anche i comportamenti dettati dalla mentalità in italia accanto alle cose che si muovono e cioè si confrontano con la modernità e cioè con l'altro ci sono tante mentalità e destini fissi sicilia sardegna calabria destini e su nel nord nel veneto in lombardia in piemonte nelle valli alpine quanti sono i paesi e le contrade dove si annida inestirpabile un medioevo psichico sotto le apparenze della modernità l'italia appare spesso al mio senso comune come un insieme di mentalità contrastanti che nutrono e si nutrono di pregiudizi reciproci spesso immerse in un narcisismo etnico e in un compiaciuto concetto di sé l'eterna italia delle cento città l'italia della batrocomachia della battaglia dei topi e delle rane l'italia della secchia rapita dunque la prima bottiglia da esplorare cioè da sottoporre all'analisi all'autocritica è quella della mentalità di quel natio borgo che non a caso leopardi chiamava selvaggio non è facile districarsene perché la mentalità a causa della cultura arcaica selvaggia che l'ha determinata è immobile non ha cioè la possibilità di produrre al suo interno gli anticorpi del cambiamento non sa criticarsi non sa mettersi in questione solo cambiando solo criticandosi mettendosi in questione si diventa se stessi cioè più liberi non condizionati dalle forme retrive della mentalità la seconda bottiglia che ci condiziona è quella del linguaggio anche il linguaggio è un'eredità che riceviamo dalla nascita in esso è la nostra memoria ancestrale e la nostra memoria immaginativa è molto importante essere critici nei confronti del linguaggio sorvegliarlo tenerlo sotto una continua vicinanza per evitare che si corrompa o che attraverso di esso ci vengano trasmesse suggestivamente idee e opinioni che in realtà non sono nostre è molto importante rizzare il pelo come fa il cane quando incrocia un altro cane di fronte a certe parole e riconoscere che alcune di esse per esempio rivoluzione si sono allontanate vertiginosamente proprio mentre se ne parlava fino alla nausea bisogna farne a meno rendersi conto che in buona parte erano davvero solo parole non in sé ma nell'uso che se ne faceva bisogna dunque imparare a riconoscere ad evitare ogni tipo di linguaggio interessato o settoriale o di moda soprattutto se si fa il mestiere di scrittore bisogna imparare a riconoscere anche quando sono ben mascherati i linguaggi burocratici politici ideologici giornalistici televisivi estremistici pubblicitari e così via e confinarli nell'ambito che loro compete senza farli mai sconfinare nel nostro perché il linguaggio della libertà non può che essere un linguaggio disinteressato e si sa che gli altri linguaggi invece non lo sono la terza bottiglia è quella ideologica un'ideologia non è in sé un condizionamento che ci impedisce di essere liberi ma può diventarlo quando si è malati di ideologia in italia siamo tutti più o meno malati di questo tipo e mi è parsa sempre strana questa fedeltà all'ideologia in un paese di gente così propensa allo scetticismo e all'indifferenza e così lontana da ogni nobile astrazione ideale sempre realisticamente e concretamente occupata solo del proprio particolare per capire chi è malato e chi non lo è il mio senso comune fa di solito una distinzione tra gli induttivi e i deduttivi i primi gli induttivi sono quelli che partono dalle cose dall'esperienza personale e diretta anche se limitata e da quella risalgono alle idee gli altri deduttivi sono quelli che partono dalle idee delle cose e da quelle deducano le cose stesse deducono i sentimenti le azioni i pensieri ed educono anche le persone che diventano il simbolo l'emblema di qualcosa senza essere mai niente di per sé in italia che lo ripeto il paese più immoralmente politicizzato del mondo a causa di questo imbottigliamento ideologico contro natura perché contro la nostra vera natura siamo condannati da 50 anni a una specie di ergastolo mentale ci sono gli ergastolani chiusi nel braccio destro e gli ergastolani chiusi nel braccio sinistro questo è diventato un destino una mentalità allo stesso modo immobile un fatto non tanto ideologico ma biologico c'è una biologia di destra e una biologia di sinistra un tipo antropologico di destra e un tipo antropologico di sinistra come può la mosca uscire da questa bottiglia come ha detto dostoevsky tra cristo e la verità scelgo cristo e questo dicono tutti i malati di ideologia la loro è una fede ci sono tra loro solo i credenti i credenti di destra e i credenti di sinistra ma la libertà anche quella che si esercita all'interno di una ideologia non malata sta da un'altra parte non sta né a destra né a sinistra e neppure in mezzo sta nella nostra indipendenza e nel rispetto della verità nel rifiuto della doppia verità o della verità che ci conviene la libertà sta nel gesto di pasolini uomo di sinistra che dice agli studenti di sinistra quando ieri a valle giulia avete fatto a botte con i poliziotti io simpatizzavo coi poliziotti perché i poliziotti sono figli dei poveri vengono da periferie contadine urbane che siano eccetera mentre continua pasolini chi sono gli studenti figli di papà animati da sacro teppismo sono i ricchi che benché dalla parte della ragione hanno bastonato i poveri io non so se pasolini avesse torto o avesse ragione in quella precisa circostanza non è questo il punto certo rivendicò il diritto dell'intellettuale di essere sempre all'opposizione l'opposizione di chi non può essere amato da nessuno e dimostrò la propria indipendenza all'interno della sinistra che giovò alla sinistra perché era un atto di libertà la stessa indipendenza e la stessa libertà di giudizio il mio senso comune ha sentito in quegli intellettuali pochi in verità che riescono ad essere non dico equidistanti che è sempre una posizione d'anime belle al di sopra della mischia ma equi contrastanti capace di contrastare di opporsi con la stessa forza a destra o a sinistra a secondo della risposta che la situazione richiede che è proprio l'opposizione di chi non può essere amato da nessuno naturalmente fin qui si è parlato più di una libertà in senso relativo che di una libertà in senso assoluto di quella libertà non assoluta di cui sartre diceva non è importante ciò che gli altri hanno fatto di te ma ciò che tu fai di ciò che gli altri hanno fatto di te insomma c'è sempre spazio per la libertà anche quando tutto congiura contro di essa ho qui dato tre esempi che al mio senso comune sembrano importanti quello del luogo e della fondamentalità quello del linguaggio e quello dell'ideologia tre tipi di bottiglia ma se ne sono tante altre di bottiglie e se volessimo entrare nel campo della metafisica ne troveremmo ancora di più incastrate l'una nell'altra come le matriosche ma sempre e in ogni caso solo quando riusciamo a scoprire la forma della bottiglia possiamo trovare la via per uscirne resta un'ultima domanda dove andrà la mosca una volta fuori dalla bottiglia dove volerà quale sarà la sua meta e non potrebbe la mosca infilarsi in un'altra bottiglia il mio senso comune risponde che la mosca andrà dove vuole magari sbagliando ma dove vuole lei non dove vogliono gli altri perché sarà una mosca libera libera anche di sbagliare